24 novembre 2018 Giornata mondiale della colletta alimentare, indetta dal Banco Alimentare. In Italia ci sono sempre più persone che hanno bisogno di sostentamenti. Il 24 novembre partecipa anche tu alla colletta alimentare. I Lions hanno bisogno anche del tuo contributo. Lions Club e Banco Alimentare, contro le nuove povertà. I Lions Club e Banco Alimentare